A Classico Horror Story hai dimostrato come un tuo collega americano Ari Aster che si può far paura anche in pieno giorno. Vabbè ora mi hai accostato a un mostro sacro però ti ringrazio speriamo di esserci riusciti. E dimostri anche che i mostri non sono diciamo quelli come in non aprite quella porta, le their face, ma sono reali, sono accanto a noi perché si parla di questo nel tuo film. Beh sì insomma io penso che l'horror sia per eccellenza uno dei generi che più elabora e rielabora la contemporaneità, lo fa da sempre, parla dei suoi aspetti politici, sociali e soprattutto l'horror contemporaneo lo deve fare. Ma io più che non brillare più di luce propri all'horror italiano purtroppo non ha una comunità, ecco, non ha una comunità né di spettatori né di registi. Quindi purtroppo l'horror italiano degli ultimi vent'anni ci sono veramente pochissimi esempi di horror italiano che sono usciti al cinema, che hanno visto la luce del giorno. E si è stato più relegato a un underground indipendente che ovviamente magari stanno anche delle piccole gemme, però è più difficile, no, dare una credibilità a questo genere se davvero la gente non lo può vedere. Quindi io non è che, non voglio critico, io più che criticare l'horror italiano, che insomma, anzi io spero che si crei. Hai ricevuto il premio meno di 30 speciale, che cosa ti auguri a partire da questo momento per la tua carriera, da questo riconoscimento? Beh, io mi auguro di poter fare delle cose belle. Ho un film già girato che uscirà prossimamente, si chiama Piove, un nuovo horror, non vedo l'ora che lo vediate. E poi ho dei progetti, dei passion project che spero di realizzare presto. Com'è stato essere il personaggio tipo di una classica storia horror? Beh, è divertente perché finalmente puoi dare sfogo a tutte le tue nevrosi della vita, puoi ammazzare qualcuno senza che nessuno ti dica niente, puoi dire le parolacce, puoi fare quello che vuoi, quindi insomma è bello fare questi personaggi negativi perché puoi fare uscire catarticamente tutta la negatività e diventare una persona migliore nella vita. Per questo ruolo hai vinto il premio meno di 30. Com'è? Insomma, non so se è il primo premio che ricevi, che cosa ti auguri per il futuro, per la tua carriera a questo punto? Per questo film è il primo premio, sì. Ed è bello perché è un premio che prema gli attori giovani, meno di 30. Poi il film è uscito nel luglio 2021, l'abbiamo girato ad agosto 2020, adesso siamo nel 2022 quindi è bello ricordarsi del lavoro che si è fatto, per me questo è importante. Cosa mi auguro? Io mi auguro di approfondire sempre di più i sentimenti e sempre meglio di migliorare perché i premi servono anche per riflettere sul lavoro che si è fatto dove si è sbagliato. Io non credo di aver fatto un lavoro, l'eccellenza per me non esiste, va in seguito ma non si arriva mai. Quindi insomma, di migliorarsi nei sentimenti e di farli sempre più veri, più che veri, più comunicativi per chi guarda. In A Classico, il Rostori viene in diretto da un giovane regista, Paolo Strippoli, mentre nell'Amica Geniale da un veterano, Daniele Lucchetti. Che differenze ci sono? Come ti sei trovato con entrambi? Ma in realtà proprio i due sono molto simili a Dirige, per esempio tutti e due amano la proposta dell'attore, amano il vedere, quindi in realtà sono proprio tutti e due molto, molto simili come concezione di registra. Ovviamente A Classico, il Rostori è un film piccolo, un film fatto in cinque settimane, un'ora e mezza. Amica Geniale è un'operazione grossa, un giorno io giravo solo una scena e quindi c'era più tempo ovviamente quel progetto, mentre nel caso di A Classico, il Rostori era più all'arrembaggio, che non significa niente perché anche quello dà un'emozione al film. Grazie a tutti.